In questo numero di Monitor Consiglio Sanità ha approvato a maggioranza il Piano Sanitario e Sociale Integrato 2012-2015. Dopo un lungo dibattito in aula, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il documento di programmazione triennale del Piano Sanitario Integrato con 25 voti favorevoli, tra cui anche quelli di alcuni consiglieri di opposizione, 13 contrari su 38 votanti. Ci siamo arrivati dopo un periodo di grande discussione, di confronto a livello istituzionale con gli operatori, con i sindacati, con i rappresentanti della società civile. E ci arriviamo in un momento difficile, complicato, non solo legato dall'ultima finanziaria, ma legato negli ultimi quattro anni da uno scenario che è completamente cambiato. C'è necessità indubbiamente di non fermarsi, perché come voi sapete, voglio dire, è questione di questi ultimi giorni, siamo di fronte anche a un cambiamento radicale, ad uno scenario nel quale dovremo affrontare immediatamente dopo l'approvazione del Piano una riforma di riorganizzazione della qualità della sanità, come l'ha battezzata il Presidente Enrico Rossi. E lo facciamo con la consapevolezza che la sanità toscana è una sanità, non lo diciamo noi, lo dice il Piano Nazionale Esiti, di ottimo livello. Elemento centrale del Piano è rappresentato dal rafforzamento dell'integrazione tra il sociale e il sanitario per sviluppare una più forte organizzazione territoriale. Quanto ai piccoli ospedali, il testo prevede che quelli al di sotto dei 100 posti letto garantiscano le funzioni di pronto soccorso H24, mentre sugli altri servizi la disciplina viene rimandata ai patti territoriali siglati con i singoli comuni. Il Piano Sanitario Regionale ha avuto un lungo iter, praticamente c'è stato anche un cambio di assessore, ci sono stati dei minor trasferimenti da parte dello Stato, quindi ha avuto vari stop, però era necessario dettare le linee entro cui muoversi, quindi era necessario entro questa legislatura sicuramente affinché appunto vengono garantiti, continuino a essere garantiti nonostante gli enormi tagli che sono stati effettuati anche nella regione toscana come a tutte le altre regioni, i servizi rimanessero, diciamo, venissero mantenuti costanti e soprattutto venisse mantenuta la qualità del servizio sanitario. Sono state anche accettate molte delle nostre sensibilità che riguardano i malati gravi, la disabilità, la questione anche delle strutture, la questione della prevenzione, la questione dell'affido familiare, la questione della vita indipendente, quindi siamo contenti tutto sommato di un lavoro che è stato fatto e quindi lo votiamo anche per il merito di ciò che c'è scritto in questo piano, perché credo che sia giusto fare così. Certamente poi quello che si prepara all'orizzonte andrà valutato, oggi il Presidente Rossi ha di nuovo fatto una sintesi, ci fa piacere che non abbia parlato dei super ticket ai quali noi siamo contrari, chissà che non stia cambiando idea, ci farebbe piacere nel caso. L'andamento è quello di ridurre, ma questo già non perché sia richiesto dalla regione o dalle aziende sanitarie, perché è proprio una scelta della popolazione quella di ridurre i ricoveri ospedalieri. Di conseguenza bisogna potenziare il territorio, che sarà quello che si farà a carico dell'assistenza dei pazienti, anche nel momento di una dimissione ospedaliera non troppo posticipata. Quindi il potenziamento del territorio, che era già avvenuto negli anni 70, poi era passato di moda, adesso speriamo che sia la volta buona. Inoltre la regione toscana potenzia le nuove tecnologie informatiche che permetteranno a tutti gli attori del sistema di essere continuamente in contatto fra di loro, dal medico ospedaliero allo specialista ambulatoriale, al medico di medicina generale, fino all'infermiera che assisterà il paziente al proprio domicilio. Ecco, tutti questi professionisti della sanità saranno in contatto tra loro per il bene del paziente continuamente. La consigliera Monica Sgarri considera il piano socio-sanitario ormai superato. Era stato annunciato in tutta Pompamagna all'inizio della legislatura questo piano integrato socio-sanitario, sono trascorsi quattro anni e le scelte fondamentali le ha prese la Giunta, bypassando completamente il Consiglio. La novità però qual è? È che Rossi ha fatto un annuncio una settimana prima dell'arrivo in Consiglio di questo piano, dove annunciava la riduzione delle ASL a tre più quella del Maier. Cioè, di questo annuncio non c'è una riga nel piano adottato, nel piano che si adotterà, si continua a parlare di 13 ASL, quindi vecchio e completamente superato. Invece continuano le scelte che noi abbiamo giudicato negative, senza neanche una verifica di queste. La prima, fra tutte, è quella dei ticket che sono stati imposti sulle prestazioni sanitarie. L'Assemblea consigliare ha approvato a maggioranza, con i voti favorevoli di più Toscana e Udc, e anche una risoluzione che impegna il Presidente Enrico Rossi e la Giunta regionale a presentare quanto prima una proposta di revisione complessiva dell'organizzazione del servizio sanitario regionale, con particolare attenzione all'attuale assesto delle aziende e degli enti. La proposta dovrà garantire il mantenimento del livello e della qualità dei servizi erogati ai cittadini, promuovendo un riassetto organizzativo, il taglio delle ASL, in grado di realizzare una ottimizzazione delle risorse e dei servizi. Abbiamo firmato una risoluzione la quale farà da linea di continuità tra i principi del piano socio-sanitario e la riforma che dovrà essere fatta in che maniera da Rossi che ha anticipato alcuni temi che noi condividiamo moltissimo, l'induzione delle ASL, l'intramenia, mettiamo un tetto all'intramenia, non è possibile che l'intramenia, i cittadini di Toscana spendano anche 500 euro per l'analizzazione di 15 minuti. Ecco, non lo accetto. Cioè i medici sono formati nel sistema sanitario regionale che visitano e sono diventati così bravi e importanti grazie al sistema sanitario perché ci sono liste d'attesa e quindi per un servizio che la sanità dà, ecco, debba pagare 500 euro, io non lo accetto. Quindi anche lì il Presidente Rossi metterà, abbiamo, insomma, si parlava di mettere un limite alle tariffe dell'intramenia. Più che il piano socio-sanitario scommettiamo su questa grandissima novità che è di questi giorni e l'ha affermata e sostenuta in maniera chiarissima e fortissima il Presidente Rossi. E noi l'abbiamo detto fin dal primo momento, insomma, avanti tutta, perché questo è il succo delle proposte, delle richieste che abbiamo fatto da tempi non sospetti. Ad oggi l'unica proposta di riforma del sistema sanitario con la riduzione delle aziende sanitarie, quella presentata sottoscritta dal collega Del Carlo, quindi sarebbe in qualche maniera irrazionale e contraddittorio adesso, per motivi esclusivamente di schieramento di tipo politico, dire no a una proposta che in realtà abbiamo fatto da sempre proprio noi. Critiche invece le opposizioni che denunciano col Vice Presidente della Commissione Sanità Stefano Mugnai di Forza Italia come il piano sia un atto privo di strategie che celebra il fallimento di una legislatura. Si approva uno strumento che il Consiglio regionale e i consiglieri regionali hanno già la piena consapevolezza che nasce già vecchio, già superato dai fatti. Allora nel momento in cui fai questo sull'atto che è il più importante, che è quello significativo di tutta una legislatura che magari andrebbe fatta a inizio legislatura e non agli sgoccioli nella parte discendente della parabola di una legislatura magari soltanto per poter permettere al Presidente di poter dire campagna elettorale, sì comunque il piano l'ho approvato, beh insomma dipende anche però da ciò che c'è scritto e in questo piano non c'è nessuna proposta significativa per il futuro, non vi è la minima volontà di risolvere in maniera positiva i problemi che attanagliano la sanità toscana. Secondo il capogruppo del nuovo centrodestra in Consiglio, Alberto Magnolfi, al piano manca un vero atto di governo. Un disegno vero di riorganizzazione, non soltanto con l'accorpamento delle ASL che ora Rossi sventola come grande idea, ma che noi abbiamo chiesto con un documento scritto già tre o quattro anni fa e agli atti del Consiglio, ma con una riconsiderazione globale della riorganizzazione globale, di una riconsiderazione di organizzazione della spesa e soprattutto per quanto riguarda le politiche sociali, anche con l'avvio di un welfare di seconda generazione nel quale anche il settore privato sia chiamato a compartecipare non soltanto alla gestione dei servizi che vengono affidati in appalto, subappalto, eccetera, ma alla programmazione e anche ad interventi finanziari attraverso il terzo settore, le fondazioni bancarie, tutto ciò che la società può esprimere. Le politiche al piano sociosanitario anche da parte dei Fratelli d'Italia è del consigliere Gabriele Chiurli del gruppo Misto. È un piano che è basato sulle attuali ASL, quindi che invece lo stesso Rossi dice che le vuole ridurre a tre fondamentalmente, quindi stiamo provando una cosa finta. Dopodiché, pur essendo una cosa finta, nel momento in cui ci viene detto che bisogna tagliare tutto, vediamo i pianti, le disperazioni, si parla di super ticket per un terzo dei toscani, quindi che dovranno pagare delle tasse aggiuntive, scopriamo nel piano sanitario che la priorità del piano sociosanitario assistenziale è trovare per i ROM e i sinti soluzioni abitative, istruzione, salute e servizi sociali, formazione e accesso al posto di lavoro. Vorremmo sommessamente dire a Rossi, se non se ne è accorto, che casa, lavoro, istruzione e servizi sociali in questo momento mancano per gli italiani e per i toscani. Prima di dare le ROM e di aumentare le tasse agli italiani e toscani, forse sarebbe necessario rivedere un po' questo concetto di buonismo e di porta aperta a tutti, perché in questo momento a non arrivare alla fine del mese sono gli italiani e i toscani. Il piano sociosanitario c'è da dire che Rossi ha fatto una grandissima ziolinata, ma in fondo è solamente un mera campagna elettorale, perché il tanto decantato rispagno dalla modifica, dalla norma, dalla proposta di legge che lui vuole fare, da 16 a 13 ASL, diciamo, è solo una campagna pubblicitaria per la sua prossima candidatura a Presidente, in quanto non c'è nessunissimo risparmio e sicuramente ci sarà un sistema che sarà sicuramente peggiorato. Il risparmio non ci sarà perché rimane tutto come prima, esattamente come è stato con le province. Praticamente i dirigenti, i mega stipendi dei dirigenti delle ASL rimangono tutti quanti. Il risparmio viene considerato, ha detto lui, sui 300 milioni, e i 300 milioni di risparmi, se ci pensiamo bene, non coprono nemmeno il buco dell'ASL di massa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.